ciao caro spirito eterno che stai vivendo con me sul pianeta terra pianeta terra forse sai già che c'è una stella il sole poi c'è mercurio venere terra marte giove cioè c'è una stella e i pianeti che girano intorno a questa stella ma com'è che sembra tutto fermo ti faccio un esempio se vai al mare e ti siedi a guardare il mare vedi che il mare non sta mai fermo di giorno di notte all'alba e movimento 24 ore al giorno che cosa l'acqua noi siamo su quella che si chiama la terra ferma ma la terra non è ferma ma ma non mi riferisco ai terremoti a mi riferisco che io te e tutti gli abitanti gli esseri viventi del pianeta terra ci muoviamo intorno al sole a 30 chilometri al secondo quindi in dieci secondi facciamo 300 chilometri poi facciamo parte di un sistema che è chiamato planetario o solare ci muoviamo intorno al centro della galassia cioè il sole con tutti i beni si muove intorno al centro della galassia perché la galassia è una spirale che ruota si muove tutto a 250 chilometri al secondo quindi in dieci secondi 2500 chilometri oltre a quelli che facciamo intorno al sole ma la galassia si muove nell'universo perché non sta ferma a 600 chilometri al secondo quindi in dieci secondi 6.000 chilometri ora se questo video dura dieci minuti immaginiamo ma non immaginiamo è meglio che sappiamo che in questi dieci minuti mentre guardi il video stai facendo migliaia di chilometri senza accorgerti che il corpo celeste dove viviamo non è piano non è pianeta ma sfera hanno dovuto girare di intorno i satelliti hanno dovuto vederlo da fuori se non sembra tutto piano le montagne però scendi sembra tutto piano l'alta e la bassa marea da che cosa sono dovute sono dovute al fatto che la luna ha un'energia per cui l'acqua da così diventa così quindi facendo qua una montagna ma non a strapiombo progressiva ritira l'acqua e chi sta arriva degli oceani vede che l'acqua ho visto negli oceani si ritira quando ero andato in africa in kenia con degli amici sotto per dieci anni di servito a costruire una scuola per i bambini andando al mare vedevi la spiaggia o degli isolotti che ogni otto ore emergevano per sei ore poi non è che sprofondavano sembrava è l'acqua che li copriva però uno non lo vede perché anche se in nave non è così e sale quindi ci sono colline anche negli oceani nei mari quindi tutto è in movimento oggi nel 2023 grazie a telescopi telescopi hotel e vuol dire lontano televisione visione lontana e hanno calcolato duecento miliardi di stelle in quell'insieme a spirale che è la galassia ma pensano che in altre galassie lontane miliardi di chilometri ci siano più di duecento miliardi di stelle allora localizziamoci un attimo chi siamo noi che viviamo in un corpo che ha un inizio e una fine un corpo fatto di cellule che cambiano ogni giorno noi cambiamo cellule quindi è importante il messaggio cellulare dare un messaggio alle nostre cellule cellulare voglio che ogni negatività abbandone immediatamente il mio corpo e la mia mente diamo questo messaggio di modo che la cellula quando crea un'altra cellula ha già lasciato andare a negatività dobbiamo dare un messaggio alle nuove cellule io voglio stare bene io ho merito di stare bene ma noi siamo limitati da questo corpo dalla forza di gravità magari potremmo andare l'umanità sulla luna su marte però anche lì ci sono forze di gravità diverse situazioni diverse noi abbiamo bisogno di ossigeno allora qual è lo scopo di questo video? farci capire che noi giriamo intorno al sole poi la terra gira anche su se stessa gira su se stessa 24 ore intorno al sole 365 giorni il sistema solare gira intorno alla galassia la galassia si muove a 600 km al secondo e allora com'è che non ce ne accorgiamo? perché se hai viaggiato in aereo non ti accorgi che stai andando a 700, 800, 900, 1000 km all'ora però se l'aereo non andasse a quella velocità noi non arriveremo mai a destinazione non puoi passare da un continente all'altro se l'aereo non va veloce però puoi mangiare, c'è il bicchiere, c'è, tieni il bicchiere, lo guardi a meno che non ci siano quelle che siano perturbazioni che sono movimenti d'aria che fanno ballare allora dicono allacciare la cintura ma se è tutto normale possiamo bere ma l'aereo è il movimento già se uno corre con un bicchiere in mano l'acqua cade allora capire chi siamo, dove siamo e che possibilità abbiamo noi abbiamo possibilità infinite se riusciamo a capire la differenza tra corpo, mente e spirito noi siamo spiriti, cioè esseri viventi eterni esseri viventi eterni e multidimensionali abbiamo un'energia invisibile che muove il visibile la mente, energia invisibile e abbiamo un corpo visibile ti ringrazio per l'ascolto abbiamo fatto migliaia di chilometri in questi dieci minuti e anche nei prossimi dieci minuti continuerai a fare chilometri e siamo in una delle tante galassie dell'infinito che non ha inizio e non ha fine adesso rifletti, medita, localizzati e percepisci io dico con i chakra superiori col terzo occhio percepisci che non sei solo questo corpo materiale possiamo farcela puoi farcela abbiamo il potere di capire grazie grazie grazie